Ehi, dove stai andando? La mamma di Dimitri non ti porterà in vacanza con loro. Convincila, farò il bravo, te lo prometto. L'hai già promesso e guarda il risultato. Non posso portare Sebastian con me, mi chiedevo se potessi... Lo teniamo noi! Chiedi alla mamma se va bene anche per lei. Sì, non ti preoccupare, non avrà problemi. Grazie. E' viva. Sal, fermati! Di chi è quel cane? È di gas, non fa che scappare. Ha bisogno di spazi aperti, non può stare in gabbia. Non pensarci proprio. E lui chi è? Un amico di Parigi. A chi interessa un cane che mangia? Le metto su Instagram. Sei coraggioso e hai un pessimo carattere. Avrei preso da me. Qua la zappa. Ditemi dov'è il mio cane. Io non lo so. Bell! 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 Attento! Scampa! Radio Italia. Radio ufficiale. Buon .